Cosa ne pensa dei negozi chiusi la domenica, centri commerciali? Non va bene. Non va bene? Per me sarebbe il commercio libero. Quindi? Sì, anche 24 ore al giorno, ognuno è commercio, si chiama commercio. Libero di decidere? Esatto, cosa fare e così. Lei va nei centri commerciali la domenica, si dedica agli acquisti? No, perché ho tutto il tempo la settimana, sono un pensionato e quindi il tempo ce l'ho. Ma oddio, onestamente da ignorante in materia, se guardo all'occupazione io preferirei che rimanessero aperto, o perlomeno un'alternanza, chiuderli totalmente, non so più cosa dire, perché qui cambia l'idea dalla mattina alla sera, tutti non lo so. Una regolamentazione però forse. Eh sì, potrebbe anche andare bene, sì. Però riteniamo che sia una cosa giusta. Tenerli chiusi? No, tenerli aperti, però con l'adeguato compenso per il lavoro della donna e per chi ci lavora dentro, con anche la libertà di poter decidere se lavorare oppure no. Quindi comunque lei da utente ci va nella domenica, gira? Io ritengo che sia una cosa logica, che ci sia l'apertura anche domenicale, perché poi in fondo la gente di domenica passeggia, gira e quindi è un'opportunità per i venditori, per i negozianti di poter realizzare, insomma, di vendere ancora altre cose. Assolutamente chiusi. Chiusi. Chiusi, lavoriamo tutti e due e quindi siamo molto, molto... Lavoriamo la domenica, i festivi, quindi chiusi. Chiusi. La domenica bisogna passarla in altro modo. In altro modo, sì. La chiusura o l'apertura dei negozi la domenica, lei come la vede? Per me dovrebbe essere sempre aperto, perché la gente tante volte ha bisogno, il sabato non può, va la domenica. Quindi è una questione di opportunità, di comodità. Sì, di comodità e poi anche di lavoro. La gente lavora di più, guadagna qualche soldo di più, può spendere ancora di più. Avendo lavorato anche per sei anni all'interno di un centro commerciale, come gestore di un negozio, è un qualche cosa di massacrante. È una regolamentazione più stringente occorre. Quindi ci vorrebbe più tempo per la famiglia. C'è la domenica e la domenica? La domenica è stata creata il settimo giorno apposta per il riposo. Ma giustamente una turnazione, non dico che... Una chiusura a tu cur. Sì, una turnazione. Ogni mese rimane aperto un esercizio nel territorio. Era impossibile andare avanti così. E poi è deprimente anche per chi va a fare gli acquisti. La domenica è che vada nel mare, ai monti, dove gli pare. Ma passarla in una galleria commerciale. Anche se è scaldata d'inverno e l'aria condizionata... È un po' triste. È triste, dai!